Vediamo come sta Emma, meno male che respira ancora e sta bene ancora viva allora funziona questa cosa di curare la ferita. No perché Emma toglie gli occhiali al suo fratellastro Otaco? Emma? Due paia di occhiali sono caduti. No che succede? Emma, non morire! Emma, di qualcosa, ti prego! Rispondimi! No! Addio Emma Emerick! Perché? Ma perché non respira più? No dai, ti prego, rialzati, ti scongiuro, per favore, non lasciarci, Emma! Dai! Volevi tanto bene al tuo fratellastro Otaco?